Annus Domini 1681 Nel carcere della cittadella di Pinerol Già sento tamburi, tromber e banditola Annunciare i festeggiamenti annuali in più Infino al posto, dove si trova la sella del prigioniero? Una grande rievocazione storica Potrete assistere a suggestive esibizioni In un magico gioco di musiche, danze, luci e colori Io, colui che da tutti viene indicato come l'uomo che porta la maschera di ferro Da dietro le sbarre mi limito a veder passare al mio cospetto nobili Milizie e popolari Tutti sussurrano ipotesi circa la mia vera identità Ma nessuno è concesso conoscerla Or dunque, frate confessore, vi prego Raccontatevi di quanto accadde fuori dalle mura di Codesta Cella Raccontatevi di quanto accadde fuori dalle In un'unica Il'unica Un'unica Un'unica Grazie a tutti. 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 Un applauso. Eccolo grandissimo Gipo. Nell'anno domini 2010, Pinerolo svela il volto della sua maschera di ferro, ma il mistero continua. La maschera di ferro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.